Quando preghiamo il Padre Nostro sentiamo il suo sguardo su di noi, ma se ci rivolgiamo a Dio non dobbiamo sprecare parole come i pagani, perché le preghiere non sono parole magiche e Lui sa di quali cose abbiamo bisogno prima ancora che gliele chiediamo. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno, nel quale Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro ai Suoi discepoli. Dicendo, Padre, ha spiegato il Papa, arrivo alle radici della mia identità cristiana di figlio di Dio, con la grazia dello Spirito. E Gesù si rivolge sempre al Padre nei momenti forti della sua vita. È lo spazio della preghiera e quando diciamo nostro siamo fratelli, siamo famiglia e dobbiamo perdonare tutti dimenticando le offese. È buono che alcune volte facciamo un esame di coscienza su questo. Per me Dio è Padre, io lo sento Padre. E se non lo sento così, ma chiedo allo Spirito Santo che mi insegni a sentirlo così. E io sono capace di dimenticare le offese, di perdonare, di lasciar perdere. E se trovo qualcosa di no, chiedere al Padre, anche questi sono i tuoi figli e mi hanno fatto una cosa brutta, ma aiutami a perdonare. Facciamo questo esame di coscienza su di noi e ci farà bene 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 bene. Padre è nostro. Ci dà l'identità di figli e ci dà una famiglia per andare insieme nella vita.